Alvanella. Adornato. Caso. Chi è? Frusone? C'è i colleghi davanti, io non vedo se è votato, ho riuscito. Perfetto. Altri? La votazione è chiusa. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 6 di chi era aperta la votazione. Duranti. Bargero. Bacca. Gallo. Biasotti. La votazione è chiusa. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 7 di chi era aperta la votazione. Onorevole Palesi. Oggi il Polpastrello non risponde ai comandi. Esatto. Binetti. Grassi. Pannarale. Grassi. Richetti. La votazione è chiusa. La Camera approva. Siamo all'articolo 8. Emendamento 8.50. Relatore. Esatto. Siamo all'articolo 10.50. correlato nei feri tutti. heres.